Oh Jackie, oh Carlo, quello, quell'altro Bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Quest'oggi ragazzotti miei siamo qua tornati su Brawl Stars Con uno shop molto, 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 molto Se noi andiamo nel negozio, precisamente nel negozio stellare Abbiamo Jesse Cavaliere Nero, Penny Lepre Nera Costano 10.000 punti stellari l'una, io ne ho 28.000 Quindi con un semplice calcolo possiamo capire che le possiamo comprare Vi dico la verità raga, fino all'ultimo non ero convinto perché avrei voluto aspettare per prendere prima una skin dorata Però comunque mi son detto ma Due skin è meglio di uno E quindi con questa semplicissima deduzione Io partirei subito prendendo Jesse Cavaliere Nero La skin include aspetto personalizzato del brawler, della torretta, effetti personalizzati, animazioni personalizzate Io direi che Sì raga, eccola qua, oh dio dio Prima di prendere Penny io direi che ovviamente un paio di partite ce le possiamo fare Ecco qua Jesse e ola Comunque raga non c'è confronto Quindi andiamo a provarla subito in canyon circolare, in singolo Sì ci sta Oh mio dio, tra l'altro qua dovrebbero esserci anche i succhettini Non ci ho fatto caso ma credo di sì sì Ma mille, 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 mille volte meglio Anche l'attacco ragazzi, l'animazione è decisamente molto più bella Comunque vediamo se questa nuova skin ci darà una mano Più che altro ci porterà un po' di fortuna per vincere il game Ah tra l'altro hai lasciato una cassettina Complimenti Bull, grazie mille Oh oh, sta arrivando, sta arrivando Amico mio Potrei anche essere d'accordo con te Allora non vorrei Però visto che insisti tanto Basta un'altra hit per la ulti Eh amico mio Eh pensavo volessi fare Erka gaga e che ne so io Beh anzi ma sai che ti dico ma potresti anche morirci secondo me Senza grosse pretese Se vai giù vai a fightarti con un altro nel mentre sto qua tranquillo spensierato Siamo già quinti Eh ma sì che ci sono i succhettini vedi Eh mi ricordavo bene infatti Non c'è nessuno camperato qua Ula la 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 Ula la la Aspettate che arrivo ragazzi Aspetta aspetta mi servi Mi servi davvero tanto Mi servi davvero troppo Eh ma Vabbè comunque mi prendo anche questa Ti capisci anche tu Niente non capisci Aspetta aspetta che sia mai Non vorrei mai nella vita rischiare di morirci Per favore bro Bravissimo Andiamo a 5 power up Anche questo è mio Per forza di cose Non è vero non è mio Non è mio Scherzavo scherzavo Oh oh Eh mi sa che è finita raga Mannaggia sto parino maledetto Vabbè comunque siamo arrivati i terzi È un bel più 6 E vai ce ne facciamo anche un'altra Quindi vai Arriva il primo eh Ah interessante Vabbè prenditi la box Io comunque un'altra bottarellina Vabbè comunque Qua raga se posso dire la mia Io non la vedo già bene Però se riuscissi comunque a prendermi qualche hit Che c'ho già anche il corvo Dai non è che troppa gente raga Ho la ulti che Quella non si butta mai Oh oh Eh ora E che te ne devo dire Aiuto Bravo corvettino Vai via Potresti però Ok Non venire qua Bravissimo corvo Ah sta partita Cioè nel senso Non vorrei dire ma Se riuscissi già ad arrivare quinto È anche vero che qua comunque basta prendere un succhettino E la situazione cambia completamente Però Se poi il succhettino non spawna manco vicino No zì no 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 Non fare il cagaca per favore Dimmi che nessuno camperà qua Meno male Scherza No 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 Ma che cosa diavolo stai facendo Ma che cosa No 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 Eh qua raga Aiuto Eh vabbè E poi qualcun altro Che si vuole unire al club Però attenzione a quel corvette Guarda Gentilmente Io devo provare A insistere su di lui De che si prendo la ulti Potrebbe essere davvero interessante Mamma 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 Però siamo Quinti Siamo quarti Potresti morirci O forse no Oh oh Credo che per me sia arrivata L'ora Vabbè Comunque un quarto posto Abbiamo la ulti Però Buoni tutti ragazzi Corvettino Se ti spingessi Un po' di più Potremmo forse Forse fare grandi cose Io e te sai Non lo so eh Siamo terzi Che si Non è male Ok Ci muore Il problema è che Si ho i power up Ma lui ha il succhettino E vince lui E beh Però Oddio però Se avessi avuto il colpettino carico Mannaggia me Comunque Rispetto a prima Abbiamo fatto un piotto Io la davo per persa Per cui Già anzi è anche andata Fin troppo bene Ma ora raga È tempo di fare il secondo acquisto Ecco qua anche Penny Nel caso di Penny Abbiamo meno roba però Perché abbiamo solamente L'aspetto personalizzato E la texture personalizzata Quindi Perché costa sempre 10.000 Mi chiedo È anche vero che esteticamente Tanta roba Soprattutto Anche qua a differenza dell'originale Ma 3 2 1 E Olla Ecco Tela qui Pure quest'altra Anche qua raga Andiamo a farci 2 parti tozze E anche per Penny Raga Direi che non c'è Assolutissimamente Ombra di dubbio Che questa Sia mille volte meglio Mamma mia Spettacolare Dai qua abbiamo sia il gadget Che la star power Quindi In teoria Dovrei fare meglio Ma Allora ci prendiamo Allora ci prendiamo questa E fino a qua Torna tutto Ma guarda Il primo Se già ti vuoi prendere Una piccola bottarellina Ma piccolina È tipo Questa Questa Occhiarello Eh 3 bottarelline Per carità Non ti farò mai fuori Però Almeno Bastano Solo altre 2 Bottarelline Per la ultima Quella Ok Mi piace Mi piace anche tanto Si raga Qua ti butto la torrettina Ti insisto un po' su di te Oh che cavolo No 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 Chi sia mai Chi sia mai Chi sia mai È il primo Era giustamente arrivata la torra Chiaramente qua c'è lui Che deve fare Erka kakà di turno Poi oh Se ci vuoi morire Non è che Mi offene Ma perché sta venendo tutti qua sopra Piccola curiosità tecnica Ah Il succhettino Quello si invece È quello È quello che fai Lo butti Sto arrivando Eccolo No Sto arrivando Da te Aspetta 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 Eh però Raga non riesco A fare Niente No 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 C'è chi no 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 C'è chi no c'è chi no c'è chi Stavo scherzando amico mio Qual gadget Credo che mi abbia Leggermente salvato Sì vabbè Si arriva pure Mortis Però capisci anche tu che Ok non viene da me Bella per lui Ho bisogno di un'altra torrettina Raga Siamo quarti Che vabbè Alla fine Non è male Leon dove saranno Ma qua raga Non aveva l'invisibilità Come sei nell'angolino Estremo Ah no in realtà Ma come ho fatto a non vederlo Ma Ma Raga si può fare Ci credo Ci credo Oddio in realtà Non ci credo più adesso Eh ora Qua l'unica cosa che può salvarmi È il succhettino in realtà Però Oh oh Oddio però l'ho distrutto Ma da No 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 Che tragedia Ma da Già Vabbè piotto Ma che sia mai ragazzi Va benissimo Allora Qua abbiamo la nostra solita Boxettina Tattica Tattica Aspetta Carlettino Aspetta Cioè Jackie Ma perché confondo sempre Ma sono l'unico Fatemi sapere nei commenti Se anche voi Scambiate Carl Con Jackie È anche vero che comunque Quando si parla È diverso Cioè io penso che la maggior parte di voi Quando giochi Non stia a parlare E dire Oh Jackie Oh Carl Quello Quell'altro Quindi È diverso Però Bicciuro raga Che ogni volta Mi confondo sempre A parte questo Siamo Ottavi Ancora In realtà Si è messi un po' Maluccio Ho preso solamente Un hit per la ulti Io Starei anche Un po' Bordo mappa Vi dico la verità E infatti Direi che la strategia Che strategia Poi Sta funzionando Perché siamo qui Eeeh No 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 Ula la 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 Ula la 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 Muori per favore Non ci voglio credere No Non è vero No non è vero No non è vero Non è Non è fisicamente possibile Siamo arrivati terzi Però vero Mannaggia raga Ma che sfortuna però Va bene E quindi raga Per questo video Direi che posso essere tutto Spero che vi sia piaciuto Se così fosse mi raccomando Un bel like Iscrizione con Campanellina Tattica Tattica Lui raga come sempre Ci vi chiamo alla prossima Con un nuovo video Bellissima Grazie a tutti